Buongiorno e benvenuti. Nella gamma 2018-2019 di Drake fa la comparsa un modello nuovo, in realtà c'era stata una pre-release nella stagione prima ma in pochi sapevano cosa fosse, si tratta della DF Team. Con il rinnovamento della gamma DF, che vedeva DF1, 2, 3, ora ridotte a Drake DF e Drake DF Team, questa prende il posto della vecchia sostanzialmente DF1 come modello top di gamma assoluto freestyle. Ha un bel camber tradizionale, alto, punta e coda, per avere reattività, stabilità e in atterraggio dei salti, consente anche di tirare delle gran belle curve. Unite alle strisce di carbonio che percorrono la tavola da punta a coda, aumentano ulteriormente la stabilità e la precisione di questa tavola. La soletta è un Sintra 8000, il top di casa Drake, velocissima, il profilo è True Twin, quindi punta e coda gemelle. È una tavola perfetta per chi ha già un'ottima confidenza con le manovre in parco e fuori e vuole un mezzo capace di spingere le sue abilità al massimo. Non abbiate paura, qualsiasi linea voi imbroccherete in parco o fuori, questa tavola sotto i vostri piedi sarà la compagna perfetta. Potete provare questa tavola, tante delle nostre uscite, date un'occhiata sul sito, rimanete sintonizzati. Se invece volete saperne di più, volete fare anche solo due chiacchiere, siamo a disposizione sui social, sul canale YouTube e anche per telefono e email senza problemi. A presto, boom!